Quando la settimana scorsa siamo andati a Pinzono per manifestare in maniera assolutamente pacifica, non contro il paese, non ovviamente contro la persona presunta aggredita, ma contro l'ordinanza degli assessori della provincia di Trento, prima di voler uccidere, poi di voler catturare ed allontanare una mamma dai propri piccoli, non ci aspettavamo certo di spettacoli assurdi, di spettacoli trottesti a cui abbiamo dovuto assistere, 1500 persone ci hanno circondati per manifestare in maniera rabbiosa, incontrollata, con spunti, urla, minacce, spintoni, la loro irrabbia, noi eravamo circa un centinaio, ci sono stati impediti di fare un corteo autorizzato, un corteo che era comunque pacifico, con persone anziane, con bambini, con dei cani disabili, quindi molto eterogeneo, sicuramente non era un corteo di faccino rosi, eppure siamo stati circondati, minacciati e la polizia alla fine ha dovuto portarci via con le camionette, come se fossimo noi i criminali, questo solamente per avere manifestato in favore di una mamma che ha difeso.